Oggi parliamo di errori giudiziari, di errori clamorosi, errori per fortuna da un certo punto di vista rimediabili, da un certo punto di vista perché è vero che un sacco e pazienti hanno perso la vita, perdetelo la vita, è stato un caso clamoroso, ma anche altri condannati a morte negli Stati Uniti e non solo, ma togliere 33 anni di vita ad una persona equivale quasi ad ucciderlo, almeno a mio giudizio, e poi per fortuna forse non è così, ma ci vuole una grande tempra per resistere. Stiamo parlando del caso di Beniamino Zuncheddu, chiamiamo anche il suo avvocato per favore, che dopo 33 anni è stato scarcerato, poi le tecnicalità ce le faremo spiegare. Intanto saluto, innanzitutto Beniamino Zuncheddu, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera Beniamino, bentornato alla libertà, sarebbe da dire. Grazie. Poi c'entriamo, tra l'altro c'è un libro, magari riusciamo a mettere anche la copertina che lei ha scritto, che sarà interessante leggere. Con noi il suo avvocato Mauro Trogu, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera, l'avvocato Beniamino Migliucci, buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Buonasera, insomma voi avete organizzato anche un convegno sui grandi errori giudiziari e quello di Beniamino Zuncheddu, diciamo, è uno dei più grandi, se non il più grande, no? Migliucci. Sì, sì, abbiamo organizzato un convegno importante proprio poco tempo fa a Marsala, dove il signor Zuncheddu ha spiegato, tra l'altro con grande umanità e anche con, direi con grande delicatezza, visto quello che ha sofferto il suo vissuto. È una persona che è riuscita a conservare un grande equilibrio. E non è semplice, come ricordava lei, dopo 32 anni scontati in carcere per un reato che non si è commesso, non è semplice mantenere questa forza interiore, che credo sia stata possibile proprio per la consapevolezza di essere innocente. E comunque questo può non bastare, perché bisogna essere dotati di una grandissima fiducia anche nella giustizia e anche, io direi, di una dote che non è di tutti, anche del perdono per gli errori che gli altri commettano, perché è un errore gravissimo quello che il signor Zuncheddu ha subito. Allora, andiamo proprio dal signor Zuncheddu. Allora, io non so da dove iniziare, se dal momento in cui l'hanno liberata o dal momento in cui si è trovato dentro questa macchina che le ha portato via così tanti anni. Iniziamo dalla felicità? Iniziamo dall'happy ending? Che si prova quando si esce dopo così tanto tempo? È una cosa indescrivibile. Non si può dire, perché tutti mi accettavano da anni, da tutti quegli anni, che ho passato dentro e perciò sono rimasto spalordito nell'affetto dei concittadini e di tutte le persone che mi vogliono bene, giustamente. Allora, io sono innocente, è il suo libro scritto insieme al suo avvocato, insieme all'avvocato Trogu. Lei chiaramente ha mantenuto questa convinzione per tutti questi decenni, no? Che cosa le dicevano i suoi compagni di prigione? Eh che certi ci credevano, certi non ci credevano, ma la maggior parte credevano alla mia innocenza, perché tutti sapevano che non ero il tipo di persone di fare tale gesto. Allora, qua stiamo parlando di un triplice omicidio, vero avvocato? Sì, esattamente, un triplice omicidio e un tentato omicidio commessi tutti in pochi minuti in un ovile nottetempo in Sardegna nel 1991. Cosa è cambiato che ha permesso poi la scarcerazione? In realtà la scarcerazione non è avvenuta per non aver commesso il fatto, no? C'è una tecnicalità magari da spiegare che renderà più complicato anche un eventuale risarcimento, avvocato? Allora, no, la formula solutoria adoperata è quella per non aver commesso il fatto. Poi nel nostro codice esiste una disposizione che in pochi riescono a spiegarsi ancora, io non sono tra quei pochi, che prevede una duplice modalità di assoluzione. Il soggetto può essere assolto quando è certa la sua totale stranità ai fatti, perché magari riesce a fornire una prova positiva per la sua non colpevolezza e poi esiste una formula che invece viene adoperata quando l'accusa non supera l'onere probatorio che la legge gli impone, ossia quando le prove d'accusa non appaiono sufficienti oppure sono contraddittorie e comunque in idonee a condurre alla sentenza di condanna, cioè in idonee a dimostrare la responsabilità dell'imputato. In questo caso il codice lo disciplina nell'articolo 530, secondo, che però, ancorché molti continuino a fare confusione, non equivale assolutamente alla formula assolutoria prevista nel vecchio codice di procedura del 1930, presenta cosiddetta assoluzione per insufficienza di prove. Allora dov'è la difficoltà, poi magari ci spiega, dov'è la difficoltà del risarcire, questo che è un evidente errore, insomma, se è possibile risarcire. Intanto voglio salutare l'Avvocato Fabio Frattini, che è colui che mi ha segnalato tutto questo, il Vice Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane. Avvocato Frattini, grazie di essere con noi, buonasera. Grazie a voi, un saluto affettuoso ai miei beniamini, perché siamo tutti e due beniamini, Beniamino Zucchetto e Beniamino Migliucci, e un caro saluto anche al grande Avvocato Trocu, che ha fatto un lavoro eccezionale, è stato super. Ci hanno creduto i parenti e ha creduto anche lui, fino alla fine ha combattuto contro tutto e contro tutto, e continuerà a combattere, perché sarebbe l'ennesima ingiustizia quella di privare Beniamino Zucchetto del dovuto risarcimento. Ma noi gli staremo accanto, come siamo stati accanto giù a Marzala, dove abbiamo avuto la fortuna di star vicino per tre giorni a Beniamino e di conoscerlo. E abbiamo imparato tantissimo, anche solo esclusivamente guardandolo, abbiamo imparato da quell'uomo. Pensa, Stefano, agli italiani che sono stati chiusi in casa per poco più di 60 giorni nel maledetto anno 2020. Stavamo nel lockdown, stavamo a casa e sembrava impazzire. Siamo stati solo due mesi a casa. Quest'uomo è rimasto per 33 anni in una cella. Neanche a casa, insomma. Non voglio togliere spazio, ci mancherebbe. Come ha scritto anche il messaggero è l'errore giudiziario più clamoroso della storia italiana, insomma. Questo lo possiamo dire, Avvocato Frattini. Poi sentiamo anche gli altri pareri. Quei due giorni giù a Marzala di errori giudiziari abbiamo parlato di quelli più clamorosi. Si parte dalla Notte dei Tempi col caso Tortora. Tortora è stato quello che ha portato alla luce in quanto si potesse sbagliare e quanto si dovesse evitare di sbagliare. Poi c'era Gulotta, che fino all'arrivo di Beniamino Zunchetto aveva il primato, perché era la star del momento e poi sono arrivati 33 anni di Beniamino, ai limiti della sopportabilità umana. Però, caro Stefano, se io ti inizio a indicare i numeri vengono i brividi a te, vengono i brividi a tutti i nostri radioascoltori. Oggi ci prendiamo più tempo, continueremo anche dopo la pausa pubblicitaria. Ma vorrei, quindi tra l'altro i vostri messaggi 3775-104-500 e se poi vorrete dire qualcosa a Beniamino Zuncheddu apriamo anche le linee 06-88-33-033-06-88-33-040. Zuncheddu, come si fa a resistere così tanto tempo chiusi in carcere? Descriverlo è impossibile perché la mente è sempre fuori e il cocco rimane dentro sta sempre pensando che un giorno o l'altro tanto si deve uscire perché se uno non ha commesso il reatto giustamente pensa sempre che la verità deve uscire fuori. Intanto comunque arrivano messaggi io rimango allibito del fatto che ci siano persone così obnubilate dalla propaganda che pensano che si intervenga in radio un caso reale, vero, una tragedia umana come quella sofferta da Beniamino Zuncheddu perché si fa la campagna politica per la separazione delle carriere a parte che non c'entra niente in questo caso proprio perché comunque qua sono tre gradi di giudizio quindi mi sembra... Sì però Stefano se tu ospiti nella tua trasmissione Beniamino Migliucci Beniamino Migliucci e separazione delle carriere sono la stessa cosa quindi il radioascoltatore è uno attento lo identifica con la separazione delle carriere Sì però non c'entra niente con Zuncheddu Chiaramente È possibile che questo errore capiti veramente a tutti e lo chiedo agli avvocati e poi anche a Zuncheddu Migliucci Guardi i processi sono un po' come le malattie anche quegli ascoltatori che hanno mandato queste riflessioni sbagliate dovrebbero comprendere che possono capitare a tutti e gli errori sono degli errori umani il tema di fondo sarebbe capire come si possono evitare questi errori che possono essere drammatici quindi ognuno dovrebbe mettersi quando capitano queste situazioni, questi eventi nei panni degli altri e comprendere che sembrano cose molto lontane e invece possono essere vicine possono capitare a noi possono capitare ai nostri parenti, agli amici quindi bisognerebbe cominciare a riflettere e cercare di comprendere che pur se gli errori sono legati alla vita degli uomini un processo equi, un processo giusto dovrebbe essere quello che porta a commetterne di meno non dico a eliminarli perché probabilmente questo sarà impossibile o può essere impossibile legate a tante contingenze diverse però c'è la strada per far sì che gli errori siano sempre di meno Trocu Sì, guardi condivido appieno quello che ha detto il Presidente Migliucci e continuo sulla sua metafora delle malattie paragoniamo il giudice al soggetto che può andare incontro alla malattia e il giudice può andare incontro all'errore noi sappiamo che le malattie possono colpire chiunque anche chi commette uno stile di vita assolutamente sano ma sappiamo anche che chi segue uno stile di vita assolutamente sano ha un rischio di ammalarsi molto inferiore a chi invece tiene uno stile di vita dissoluto e poco attento ecco, il giudice che segue scrupolosamente le regole della giurisdizione che si ispira nella valutazione delle prove al criterio dell'onere della prova che incombe sul pubblico ministero che rispetta il dubbio e lo valorizza nel momento della decisione che rispetta le regole dell'equo processo ecco, è un giudice che rischia di ammalarsi meno e quindi di commettere meno errori di un giudice che invece conduce il processo pregandosene delle regole che fa prevalere i suoi sospetti personalissimi le proprie congetture sulle prove oggettive ecco, la vicenda di Beniamino io l'ho voluta raccontare in quel libro proprio per questo perché è palpabile in questa vicenda di come questo modo di fare abbia potuto rovinare la vita di un uomo che assolutamente non aveva fatto nulla di che per meritarselo Beniamino Zucchetto ma ci ricorda il primo giorno da condannato com'è stato? se lo ricorda innanzitutto? più o meno non mi ricordi più di tanto il primo giorno è stato bruttissimo prima l'arresto perché quando mi hanno preso mi hanno portato in questura di questa accusa che poi mi hanno preso mi hanno legato a un tubo in pratica mi hanno lasciato fino alle 9 del mattino con un braccio in alto seduto in una sedia già ero scioccato poi quando sono arrivato in carcere ero più scioccato e poi sono andati avanti altri 32-33 anni cioè che sono poi perché loro mi hanno preso per accertamenti mi hanno detto di venire per accertamenti e sono 2-33 anni questo è certo amminti però pensavo sempre alla libertà perché dovevo uscire perché non avevo fatto mai niente senta ma intanto la vediamo da giovane è entrato che non aveva ancora 27 anni è vero? è uscito a 50 sì sì era un ragazzo era un ragazzo un ragazzo normale come tutti gli altri no è uscito è uscito una persona molto adulta diciamo ecco quindi adesso eh sì io non le voglio fare questa domanda ma le hanno rubato la giovinezza e l'età diciamo così l'età migliore della sua vita mi hanno rubato tutto non ho potuto fare niente non non mi sono potuto aprire una famiglia una posizione niente di niente e non ha mai avuto come dire pensieri cattivi nei confronti di chi l'aveva di chi le ha rubato tutto questo che è l'unica cosa che possediamo poi in realtà il nostro tempo sì ma agli inizi sì poi vedendo questa posizione del processo sentirlo e ho capito che pure quello che mi ha accusato è una povera vittima per colpa di quel poliziotto perché è il poliziotto che gli ha fatto vedere la mia foto e gli ha detto di che è questo questo è stato accertato vero avvocato Trocu insomma è così proprio è emerso sia nel corso di diverse intercettazioni ambientali e telefoniche e poi è stato confermato dal testimone nel corso del dibattimento del giudizio di revisione ma diciamo che era un dubbio che alleggiava in maniera molto pesante già nel 1991 sia l'ipotesi che fosse stata una contaminazione della prova testimoniale era stata che qualcuno avesse suggerito la persona e la figura di Beniamino Zuncheddu sì perché già nel 1991 i difensori di Beniamino erano stati molto lungimiranti e avevano intuito che quella ritrattazione del testimone era avvenuta in circostanze molto molto dubbie e sospette e quindi avevano cercato di insinuare questo dubbio nei giudici che però non ne avevano voluto proprio sentire oh intanto a proposito di risarcimento qua a Beniamino c'è Zuncheddu c'è un bel messaggio perché Giovanni che ci ha mandato questo messaggio al 3775 104 500 scrive questo io voglio un risarcimento il risarcimento dato a Beniamino è un risarcimento dato anche a me a ognuno di noi un abbraccio a Beniamino e questo è bello però solidarietà sì lo contro la cambio l'abbraccio Avvocato Trogu possiamo ricapitolare proprio tutti tutti gli step della vicenda sì allora cerco di essere il più sintetico possibile nel 1991 tre uomini vengono uccisi nottetempo in uno file un quarto rimane sicuramente felito ma sopravvive l'indomani questo diventa l'unico testimone di quei delitti e racconta che il killer aveva agito a volto coperto con l'ant e di non essere in grado di riconoscerlo per quanto attiene ai lineamenti questa avversione la tiene ferma per 50 giorni in questi 50 giorni però subisce ripetutamente visite da parte di un polizioso che non documenta il loro colloqui e se non che appunto al termine di questo lungo periodo il testimone improvvisamente cambia versione e dice che in realtà il killer aveva agito a volto scoperto riferisce di aver parlato di un volto travisato per paura e dice di essere in grado di riconoscere l'assassino gli vengono esibite delle fotografie 16 in particolare la prima di queste 16 foto era quella di Beniamino Zuncheddu e lui indica senza tentennamenti in quella foto il volto che di colui che lo aveva sparato e che aveva commesso gli altri omicidi Beniamino viene arrestato due giorni dopo e da quel momento rimarrà in carcere per quasi 33 anni il testimone terrà ferma questa avversione dei fatti per tutto il giudizio di primo grado e anche d'appello la corte d'assise prima la corte d'assise d'appello poi riterranno credibile la sua avversione ossia la spiegazione di questo cambio di dichiarazioni ritengono assolutamente implausibile che il poliziotto possa avere esercitato una qualche forma di pressione irregolare tale da condizionare la testimonianza questa tesi era stata sostenuta dai difensori di Beniamino e giungono quindi alla decisione di irrogare l'ergastolo a Beniamino Zunchetto per tutti gli anni di detenzione si professa innocente ecco questo è un elemento importante siccome si professa innocente praticamente non ha avuto diritto a nessun beneficio carcerario insomma niente allora non proprio a nessuno perché ha avuto grazie alla sua eccellente condotta carceraria il diritto di lavorare all'esterno dal carcere ma ha perduto il diritto di ottenere la misura massimamente liberatoria per un condannato all'ergastolo cioè la liberazione condizionale a lui dal 2014 gli è stata negata ripetutamente la liberazione condizionale che significa riacquistare la libertà pressoché totale sul presupposto che non fosse sicuramente ravveduto proprio perché non confessava di aver commesso gli omicidi per cui era stato condannato quando io mi sono imbattuto nel caso ho dato avvio ad una serie di indagini difensive che mi hanno consentito di recarmi dal procuratore generale per la corte d'appello di Cagliari dell'epoca che era la dottoressa Francesca Nanni per chiedere che valutasse di presentare insieme a noi una richiesta di revisione la dottoressa Nanni ha voluto approfondire ancora di più la faccenda ha preso avvio un nuovo procedimento penale avendo ad oggetto il concorso di ignoti in quegli omicidi in quel procedimento vengono disposte delle intercettazioni di comunicazioni durante le quali il testimone oculare parlando con la moglie dice fondamentalmente Mario il poliziotto Mario mi ha fatto vedere la foto di Beniamino prima del riconoscimento e gli inquirenti che adesso stanno indagando lo hanno capito e hanno capito che quella è la verità hanno capito che il collante sul volto quella persona ce l'aveva e questo uomo si mostra si sente si percepisce dalle intercettazioni che era profondamente turbato quasi disperato direi per perché gli si pareggiava nella mente di aver commesso un errore una gravissima leggerezza nel fidarsi del poliziotto che gli aveva suggerito di accusare Beniamino nel giudizio di revisione la testimonianza di quest'uomo accariccio definitivamente questo aspetto perché costui ha detto ha spiegato ripetutamente che il poliziotto lo aveva rassicurato sul fatto che Beniamino fosse colpevole gli parlava di non meglio specificate indagini che lo conducevano a ritenere Beniamino colpevole e oggi sappiamo noi che invece indagini in tal senso non ve ne erano state che forse forse il poliziotto aveva ricevuto da un informatore anonimo un'indicazione in tal senso ma io ho fortemente dubitato questa circostanza e comunque chiaramente fai vedere la foto prima del riconoscimento e fai una pressione cioè il riconoscimento non ha alcun senso insomma no evidentemente sono quelle cose che chiaramente viene forzata la memoria di quell'evento allora un attimo solo perché vorrei tornare da Beniamino allora Beniamino Zucchetto innanzitutto come vive adesso cioè lei ha lavoro non ha lavoro so che insomma vorrebbe almeno uno stipendio qualcosa ma un risarcimento che risarcimento vorrebbe che risarcimento è possibile dal suo punto di vista dal mio punto di vista non c'è per la libertà non ci sono soldi che la pagano e in più sono disoccupato in quanto non mi sento tanto bene pure ecco ma il fatto che lei sia stato così al centro di una vicenda così tragica direi ma non ha portato qualcuno a dire vieni da me vieni a lavorare te l'offro io il lavoro no nessuno no per il momento no in quanto sto pure male di salute di salute non è che sia tanto bene perché non mi hanno curato neppure lì davvero in carcere non è che si sta benissimo franca allora vorrei sapere da voi Migliucci che tipo di risarcimento è possibile secondo lei ma il il signor Zuncheddu ha diritto a una riparazione dell'errore giudiziario che viene quantificata in termini anche spesso opinabili e che viene data quando tra l'altro la persona che la chiede non abbia dato causa per dolo quindi volontariamente o colpa grave all'errore giudiziario quindi ha diritto a una riparazione che deve essere commisurata a durata della pena le conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna ora io non so nel caso concreto se la riparazione in che termini possa avvenire o meno credo che però 32 anni di carcere meriterebbero importi importanti noi dobbiamo pensare che per esempio esiste un'altra possibilità per chi è una cosa diversa per chi sia stato ingiustamente in carcere c'è l'indenizzo per ingiusta detenzione che arrivi a importi che spesso non sono neanche così significativi e proprio per gli ascoltatori forse è interessante sapere proprio per capire quanto è diffusa la possibilità che si commettano degli errori o che si mettano in carcere delle persone che in carcere non dovrebbero stare il nostro Stato solo fino al 2022 dal 91 al 2022 ha pagato oltre 930 milioni tra indenizi e riparazioni per indenizi per ingiusta detenzione e riparazioni per errori giudiziari che è una cifra importantissima e i casi sono stati oltre i 30 mila di ingiuste detenzioni e quindi di errori o di persone messe in carcere che non dovevano andare in carcere ce ne sono molti e questo credo che dovrebbe comportare una riflessione molto profonda in carcere nella fase delle indagini nella custodia cautelare dovrebbe essere applicata solo quando è assolutamente necessario e bisognerebbe anche capire che bisognerebbe come dicevamo prima cercare di fare in modo che vi siano dei controlli adeguati per evitare che le persone perdano la libertà e con la libertà spesso la loro dignità e spesso anche la loro salute noi abbiamo ricordato oggi Beniamino Zunchedo ma possiamo andare a tanti anni fa molti non lo ricordano neanche più i più giovani magari non lo sanno neanche ma il caso di Enzo Tortore è un caso che dovrebbe essere ricordato e magari portato anche nelle scuole per far capire come quando si entra in un tritacarne come quello della giustizia si può rimanere schiacciato e quindi è necessario cercare gli antidoti per evitare gli errori eh gli antidoti ecco tra l'altro l'avvocato Frattini poi torniamo dall'avvocato Trogu c'è un messaggio da parte di Carlo allora scusa ma come si può dare l'ergastolo sulla base di un unico testimone avvocato Frattini vicepresidente del consiglio delle camere penali italiane si 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 può dare l'ergastolo anche sulla base di un solo testimone a condizione che la testimonianza non sia stata in qualche modo come dire inquinata non è un po' pochino per come garanzie di cioè non stiamo parlando stiamo parlando dell'ergastolo cioè guarda io adesso apro un'altra parentesi e un altro settore dove sicuramente qualche volta torneremo a parlare ma in tutto quello che è il mondo del codice rosso è sufficiente la parola della persona offesa a sostenere un giudizio di responsabilità un grande autore ha scritto che è autocorroborante la parola della persona offesa prescindendo da tutti questi che sono i riscontri oggettivi e soggettivi però ti voglio dire questa cosa perché l'avvocato Migliucci ha dato l'idea di quello che è l'errore giudiziario l'ingiusta detenzione dell'errore giudiziario un miliardo di euro negli ultimi 30 anni mille errori giudiziari ogni anno questi sono soltanto la punta dell'iceberg perché tante volte non si fanno richiesta di indennizi o di riparazioni per ingiusta detenzione quindi significa che i errori sono molti di più e la vera domanda che noi dobbiamo porci e sulla quale anche l'avvocato Migliucci ha cercato di invitare i radioascoltatori a fare una riflessione siamo nel mondo della fisiologia o in quello della patologia il nostro sistema è in grado di evitare di commettere degli errori o il nostro sistema purtroppo porta a commettere quegli errori prescindendo dal testimone può assolutamente essere sufficiente un unico testimone anche per dare una condanna dell'ergazzo ma il nostro sistema che produce così tanti errori sta operando bene o forse ha bisogno di qualche accorgimento in versione garantista questa è la domanda che io vorrei affidare a tutti i nostri radioascoltatori caro Stefano perché Beniamino Zunchendu è l'esempio è l'esempio più eclatante dello stare in carcere per 33 anni ma ti posso garantire che le persone che stanno in carcere anche per 3 anni per 3 mesi la vita gli cambia completamente e ti posso garantire anche un'altra cosa perché purtroppo i numeri sono terribili in carcere si muore siamo arrivati a quota 34 suicidi siamo passati pochi mesi dall'inizio dell'anno già siamo a 34 suicidi in carcere si muore Avvocato Trocu io l'ho fatto alla domanda Beniamino Zucchetto dice quanto potrebbe essere un eventuale risarcimento lei se ne è fatta un'idea a prescindere perché comunque è una cosa in corso d'opera evidentemente esatto non mi sono fatto un'idea perché ho affidato questo compito a dei tecnici dei consulenti competenti a fare questo genere di operazioni che obiettivamente appagliano anche ciniche in un momento come questo perché però non ha lavoro non sta bene ciniche ma gli servono per continuare a vivere nel senso che no 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 aspetta non mi sono intendo giocine nel senso che è veramente difficile quantificare economicamente quello che gli si e poi perché quando si dice molto banalmente che la libertà non ha prezzo beh in questa vicenda io ho appreso cosa significa io l'altro giorno facevo questo esempio a degli studenti io in questi 33 anni di vita mi sono fatto una famiglia una moglie e un figlio se venisse qualcuno e mi offrisse 100 miliardi di euro io darei in cambio mio figlio ovviamente no ovviamente capito che se anche a Beniamino e a Tunchegu venissero dati 100 miliardi di euro lui un figlio non lo avrà mai una moglie spero che possa averla ma non l'ha avuta finora insomma stiamo parlando di dimensioni di beni incomparabili assolutamente sì Beniamino Zucchegu ma quando è uscito ha trovato qualcuno dei suoi amici qualcuno che conosceva come l'hanno accolta? mi hanno accolto benissimo tutto il paese non solo gli amici anche chi non mi conosceva ricordiamo il nome del paese ci ascoltano tanto in Sardegna come si chiama? Burcei Burcei anche tutti i bambini dal più piccolo al più vecchio cioè comunque lei è diventato un eroe per la resistenza che ha avuto in tutti questi anni in carcere ma che eroe beh per loro sì perché se c'erano bambini che non la conoscevano che l'hanno accolta così all'uscita al ritorno in libertà e come mi vedono mi salutano tutti io anche se non li conosco per dire però mi salutano tutti ma che meraviglio ma li conoscono posso dire una cosa prego prego frattini scusami se mi permetto di intervenire io penso che Beniamino Zuncheddu ce l'abbia fatta non soltanto perché aspettava quel giorno ma anche perché lì ad andare a trovarlo se non sbaglio tutte le volte che poteva andavano i suoi familiari la famiglia gli è stata sempre vicina gli ha permesso di farcela fino a pochi giorni fa Zuncheddu le hanno chiesto anche il parere sul ritorno di Chico Forti e io glielo chiedo ma non perché hanno chiesto che cosa ne pensa del ritorno di una persona condannata per omicidio eccetera eccetera ma insomma è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio a lei non l'hanno ricevuta le autorità lui è stato fortunato purtroppo nessuno si è fatto vivo nessuno si è fatto vivo no no ecco questa la trovo un'ingiustizia perché insomma alla fine è un errore dello Stato qualcuno che rappresenta le istituzioni magari no sarebbe non lo so lo chiedo a lei avvocato Trocu magari è chiaro che non è colpa dell'attuale governo né dei governi passati anche perché la magistratura è assolutamente autonoma quindi non quello che fa di bene o talvolta di male è responsabilità della magistratura ma insomma qualcuno che si cioè qualcuno che rappresenta lo Stato e che di fronte a un cittadino italiano che ha subito un'ingiustizia simile si faccia avanti ce lo potevamo aspettare oppure no avvocato guardi io non non me l'ero posto il quesito prima che tutto finisse dopo obiettivamente sì mi sarei aspettato un cenno di solidarietà non dico molto un cenno di solidarietà però come anche queste ultime esperienze le ultime vicende hanno avuto un certo risalto mediatico penso alla vicenda della decennità Salis e alla vicenda del signor Tico Forti mi hanno fatto fare questa riflessione che si fa molto in fretta a a vivere lo scandale quando certe cose accadono negli ordinamenti esteri si ha invece molta timidezza nel andare a guardare a fondo cosa succede in casa nostra e quindi si fa in fretta a gridare allo scandalo quando una certa condotta che noi non condividiamo la fanno gli altri e quando invece la facciamo noi si fa in fretta a mettere la polvere sotto il cappetto e questo questo purtroppo è vero ed è triste lo chiedo proprio a Migliucci e Frattini poi ci salutiamo e salutiamo anche Beniamino Zucchetto Migliucci sì ma certo c'è un problema io ricordo sempre il caso di Enzo Tortora Tortora ebbe un grandissimo merito anche quando Francesca Scopelliti ha fatto pubblicare le lettere che scriveva dal carcere ha voluto dar voce a tanti che voci come Beniamino Zucchetto non ce l'hanno come Giuseppe Gullotta ci sono tanti errori di persone umili di persone che non hanno la ribalta dei media che non sono interessanti sotto il profilo elettorale che hanno subito dei torti degli errori beh la nostra società li mette un po' come la polvere sotto il cappetto li rimuove vuol far finta che non esistono e questo è profondamente sbagliato perché come dicevamo prima bisognerebbe portare una riflessione profonda per capire come evitare questi errori dovremmo anche capire perché per esempio come nel caso di Enzo Tortora ma mi pare anche come nel caso di Zuncheddu magistrati che magari non hanno visto bene o hanno sbagliato sono stati promossi tutti quanti hanno fatto nel caso di Enzo Tortora hanno fatto brillantissime carriere tranne il magistrato Morello che in corte d'appello fu il relatore della sentenza che assolse Enzo Tortora quindi io credo che questi casi che voi meritoriamente avete messo posto all'attenzione debbano fare un po' riflettere tutti e farci pensare un pochettino che il signor Zuncheddu può essere un nostro vicino un nostro parente che non dobbiamo mancare di sensibilità verso quello che avviene e bisogna ringraziare i media che si occupano di questi casi che sono quelli dimenticati poi quelli che servono per elezioni o per mostrarsi esistono anche quelli e possono avere anche il merito anche quelli di portare all'attenzione delle cose che non si fanno ricordiamoci che nel periodo di Mani Pulite noi che ci lamentiamo di condizioni dell'estero gli imputati venivano portati in tribunale in manette e che fino a poco tempo fa gli imputati i loro processi li assistevano tra le sbarre quindi ognuno come ha detto anche il collega Trobu deve pensare alle condizioni in cui viviamo e cercare di rimediare alle cose alle quali non stiamo rimediando proprio in 30 secondi avvocato frattini fa più notizia una tra virgolette mala giustizia straniera di una italiana due pesi due misure ecco la sintesi di quello che vorrei dire ti vorrei aggiungere anche un'altra cosa esiste un paese civilissimo nel quale lo spazio che i media devono dedicare ad una notizia deve essere la notizia di un arresto di un'indagine di un processo deve essere identica a quella che dovranno dedicargli quando quella sentenza arriverà e magari sarà di assoluzione c'è una forza differenza tra quello che avviene nel momento delle indagini nel momento in cui Toti viene in qualche modo sottoposta agli arresti domiciliari e quello che magari accadrà da qualche anno quando forse all'esito di un giudizio Toti verrà dichiarato innocente verrà assolto è probabile che questo accada proviamo a pensare ai due pesi e alle due misure ecco purtroppo dobbiamo riallinare i due pesi e le due misure e voi bisogna darvi merito voi ascoltate anche l'altra parte non state solo dalla parte di un peso e di una misura e ve ne va dato merito Benimeno Zucchetto chiudiamo con questo messaggio bello che arriva da Pietro ha resistito perché è sardo la dignità di un sardo è notevole quella di un sardo innocente è immensa chiunque altro sarebbe crollato dopo 32 anni ma non un sardo si riconosce in questo Beniamino? è un po' è un po' vero? è un po' vero? è un po' vero è un po' vero ci ascoltano tanti in Sardegna vuole salutare tutta la Sardegna in qualche modo Beniamino? ringrazio tutti gli ascoltatori e tutti quelli che hanno creduto nella mia innocenza grazie a tutti grazie a tutti